1-0 in attacco la regina adesso con Castiglia la palla dentro per Campagnacci rizzato, si muove Bonazzoli ecco il cross, Bonazzoli 1-1 la regina ha pareggiato con Bonazzoli 1-1 al 32esimo del primo tempo situazione di parità al Piola 1-1 ha pareggiato Bonazzoli e ancora promosso il Novara la palla lunga nella zona di Sarno hanno capito che lui può essere il Grimaldello capace di scardinare la cassaforte del Novara insiste Sarno, sbaglia l'ultimo passaggio poi Bonazzoli 2-1 regina in vantaggio Bonazzoli per la doppietta al trentesimo del secondo tempo Bonazzoli, non ci crede neanche lui ha portato in vantaggio la regina e adesso è la regina a portare dalla sua parte la qualificazione attacca Gennity in posizione di alla sinistra c'è Rubino sul secondo palo ecco lo spiovente Rubino è stato anticipato ancora da Costa Rigoni gol di Rigoni Rigoni 2-2 splendido gol del Novara 44-10 2-2 è il gol che ridà la qualificazione al Novara la firma di uno splendido gol di Marco Rigoni grazie grazie grazie